Salve a tutti sono Mario Contino e vi do il benvenuto in questo nuovo video per il canale Universo del Mistero. Oggi parleremo di demoni giapponesi o per meglio dire degli esseri demoniaci descritti nel ricco folclore giapponese. Prima vi invito ad iscrivervi al canale e a selezionare la campanella per restare sempre aggiornati sui nuovi video. Yokai è uno dei termini che in Giappone indicano un demone ma non solo. La parola indica più generalmente quello stato emotivo alterato misto tra terrore e confusione che generalmente si prova quando ci si trova di fronte ad eventi inspiegabili e riconducibili all'azione di entità soprannaturali. Quindi con il termine yokai si indica un insieme di fattori. Il demone è l'effetto che questo produce nell'ambiente e nel testimone stesso dell'evento. Ovviamente la parola demone in Giappone è utilizzata in maniera più ampia quindi non propriamente come la utilizziamo noi in occidente o comunque come la si intende nel cristianesimo e nelle religioni collegate al cristianesimo. Tra gli yokai è possibile distinguere diverse specie di esseri. Ad esempio troviamo gli honi raffigurati come mostri rabbiosi simili ai troll del folklore europeo con molti occhi, corna, pelle di colore rosso o bluastro ed una grande mazza chiodata in mano. Yuki onna invece sarebbe un demone dall'aspetto umano femminile. Apparirebbe come una donna dalla pelle bianca e con i capelli lunghi e neri. Indosserebbe un kimono dello stesso colore della sua pelle quindi molto bianco. Farebbe la sua comparsa durante le nevicate planando sulla neve muovendosi quindi come un fantasma. Si estrarrebbe dalla bocca delle vittime dopo averle congelate. Yamauba sono demoni dall'aspetto umano. Si presenterebbero come vecchie donne emarginate che vivrebbero in solitudine sulle montagne. Questi esseri sarebbero legati a pratiche di cannibalismo e nasconderebbero una grande bocca provvista di denti aguzzi tra i loro capelli. Uno degli yokai più noti è certamente il kappa. Il kappa, letteralmente bambini del fiume, sarebbero esseri molto antichi che avevano il compito di spaventare i bambini che si fossero avvicinati pericolosamente ai corsi d'acqua. Il kappa ha una forma antropomorfa, mani e piedi palmati e un guscio di tartaruga sulla schiena. Sulla testa avrebbero una specie di piatto o un cappello simile comunque ad una scodella che racchiuderebbe l'essenza vitale dello yokai. Sarebbero comunque spiriti dispettosi e capaci di rapire donne e bambini. Altro demone giapponese molto famoso in occidente, soprattutto per via di cartoni animati e fumetti, diventati popolarissimi, è Kitsune, il demone volpe. Secondo la mitologia giapponese la volpe è un essere dotato di grande intelligenza in grado di vivere a lungo e sviluppare con l'età poteri sovrannaturali. Il principale fra questi ultimi è l'abilità di cambiare aspetto ed assumere sembianze umane. Infatti esse appaiono spesso con l'aspetto di una bella donna, soprattutto quando vogliono ingannare giovani uomini sprovveduti. Kitsune non è un demone nel senso stretto del termine, infatti esse sono comuni volpi che, avendo superato una certa età, parliamo anche di 100-200 anni, acquisiscono doti soprannaturali e in tal senso demoniache. Un buon metodo per scoprire la vera natura delle Kitsune è cercarne la coda, in quanto esse hanno difficoltà a nasconderla quando assumono forma umana. Nelle rappresentazioni artistiche la Kitsune vengono spesso raffigurate a fianco a puntini luminosi di forma sferica, noti come Hoshino Tama. Questi punti vengono descritti anche come globi incandescenti, sfere di fuoco, questo perché la figura stessa della volpe è associata al fuoco e in questo caso si parla di fuochi di volpe, noti come Kitsunebi. Gli yurei, invece, sono una delle tipologie più popolari ed antiche fra gli yokai. Si tratta di fantasmi colmi di rancore, spiriti diventati quindi entità demoniache o spiriti vendicativi, ritornate dall'aldilà per vendicare appunto la propria morte o per infestare determinati luoghi. Uno yurei può manifestarsi anche a causa di un mancato funerale da parte dei familiari dopo la scomparsa della vittima. Secondo la tradizione, questi spiriti mantengono le sembianze della loro precedente vita, compresi i vestiti indossati e le ferite che avrebbero poi causato la loro morte. Avrebbero lunghi capelli neri che nasconderebbero il loro viso dall'aspetto inquietante o terrificante. Come avrete capito, il folclore giapponese contempla moltissimi esseri, spesso legati alla natura e agli animali, persino ad oggetti di uso comune che potrebbero acquistare doti demoniache e trasformarsi in yokai. Descriverli tutti in questo video sarebbe praticamente impossibile. Manga ed anime famosissimi come Inuyasha, ad esempio, un manga shonen scritto e disegnato da Rumiko Takahashi, hanno contribuito ad esportare nel mondo il folclore giapponese e a divulgare le leggende su diversi tipi di yokai, alcuni dei quali sono paragonabili ai folletti o ad altri esseri descritti nel folclore occidentale. Spero che questo argomento vi sia piaciuto, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video.